Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nostro nuovo incontro in videoconferenza, videoconferenza stampa del sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi e del vice Luis Walsher. Come sempre invito i colleghi a silenziare i rispettivi microfoni, ci sarà prima l'intervento del sindaco alternato a quello del vice sindaco e dopo daremo spazio alle vostre domande. Allora, io darei la parola al sindaco per la prestazione delle decisioni. Prego. Grazie, benvenuti. Allora, partiamo con la prima delibera. Abbiamo rinnovato i membri del nucleo di valutazione con la spesa di 14.880 euro per tre anni. Sono stati rinnovati il dottor Andrea Zeppa, che non prende niente, Günther Bernhardt, che è di lingua tedesca, segretario generale del comune di Merano, e la professoressa dell'Università di Bolzano, Stefania Baroncelli. Il periodo scadeva il 31 maggio, quindi dal 31 maggio un triennio. Questa è la prima delibera. Abbiamo approvato gli obiettivi del PEG, del Piano Economico di Gestione del Comune, collegato al bilancio. Ciascun dirigente ha concordato gli obiettivi con l'assessore di riferimento e quindi adesso siamo a posto con le scadenze, anche se questa emergenza virus ha scombussolato un po' i piani. Passo la parola al vice sindaco per le sue delibere e dopo proseguo. A te Luis. Buongiorno a tutti, per la prima delibera era una proposta di modifica al nostro piano di infrastrutture per inserire il collettore principale della Valdega nel piano delle nostre infrastrutture. lungo l'Isarco abbiamo già fatto diversi tratti, questo è adesso lungo la vecchia strada statale della Valdega e così praticamente tutte le acque nere della Valdega possono poi essere portate con questo verso l'ecocentro a Bolzano Sud. e la seconda delibera era una variante al piano di recupero del centro, zona via Concepelli, via De Lai, via Crispi, dove abbiamo inserito il bonus energetico, proprio perché nei vecchi piani di recupero non sono inseriti bonus di qualsiasi tipo e per questo ogni volta dobbiamo inserirlo, si è richiesto dai richiedenti. Ecco, questo è tutto da parte mia. Ok, proseguo, ho la sua proposta dell'assessore personale Monica Frank, abbiamo nominato la commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per il conferimento di sei posti di operaio specializzato, ne fanno parte il dottor ingegnere Stefano Stringari con vice supplente Mario Beger, i membri sono l'ingegnere Selene Sponberger e Georg Schlisser. I supplenti sono rispettivamente la geometra Claudia Parisinotto e il geometra Stefano Famma. Sempre su proposta dell'assessore Frank abbiamo concesso un contributo minimo di 800 euro all'associazione micologica Bresadola per l'attività ordinaria dell'anno 2020, speriamo che possa riprendere, possono andare a fare le solite mostre sui funghi salendo sui nostri monti, poi abbiamo modificato l'elenco di profili professionali inserendo alcuni profili che sono già concordati a livello di contrattuale e quindi riguardava soprattutto fasce di operai. L'altro, sempre su proposta dell'assessore a tempo libero, abbiamo concesso un contributo al club alpino italiano per attività ordinaria 2020 di 2.600 euro, un altro contributo per attività in piscina per anziani, sperando che possa presto riprendere all'associazione UISP un contributo di 750 euro, così un altro contributo alla stessa associazione per attività motoria, ludica e ricreativa per la terza età di 350 euro. Abbiamo dato un contributo anche all'istituto comprensivo Bolzano IV il Tresarco per il progetto centenario della nascita di Gianni Rodari, a cui è intitolata la scuola, abbiamo dato un contributo di 1.800 euro, all'associazione Palladio per il progetto laboratorio artistico creativo abbiamo dato un contributo, deliberato un contributo di 600 euro. E tutta una serie di contributi che finalmente sono arrivati passando per le commissioni competenti, contributo alla cooperativa Montessori per il progetto Asilo nel Bosco anno 2020 e un contributo di 250 euro. Un contributo di 750 euro alla cooperativa Montessori per il progetto settimane vacanze dal 6 ai 15 anni, che si terrà quando, speriamo, non appena sia possibile. Un contributo all'associazione PAP per la PAP per il progetto CAMS 2020 e un contributo di 1.000 euro. Poi abbiamo erogato, per quanto di nostra competenza, una quota costi per la partecipazione ai costi di investimento per le scuole secondarie a cui partecipano i nostri ragazzi. Si tratta di un contributo al comune di Merano per 911 euro. Contributo all'associazione UPAD per il progetto Spazio Famiglia, area progetti per minore e sostegno della genitorialità, 1.200 euro. Il progetto Città dei Ragazzi, che l'associazione VCAE dovrebbe organizzare con modalità diverse, le stiamo studiando insieme, vediamo un po' se ci riusciamo. Un contributo di 300 euro. Poi un contributo per il progetto JudenCamp alla Musica Pellet 12 Magrain, perché è solo un progetto per minori che aiutano i giovani a studiare la musica, 800 euro. Poi abbiamo imbandito un concorso pubblico per esami per conferimento di due posti di operario specializzato nel settore fermatorio e profilo. Abbiamo nominato la commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per conferimento di tre posti di operario specializzato elettricista, con contratto a tempo indeterminato, quarta qualifica funzionale. Attraverso l'Istituto della Mobilità Trenti abbiamo attivato la procedura di selezione di personale amministrativo con contratto a tempo indeterminato di quinta qualifica funzionale, con rapporto di lavoro a tempo parziale, 19 ore settimanali. Su proposta dell'assessore Lorenzini abbiamo approvato la spesa di 39.480 euro più IVA per il proseguimento allargamento della ciclabile lungo esarco destro tra Bolzano e Cardano dal ponte della Mila che voi avete fatto l'attuale, ho visto che ho fatto un bel servizio. Settore Giovani, anno 2020, contributo all'associazione Aias per la realizzazione del progetto Musica all'Aias 2020, abbiamo dato un contributo di 1.500 euro. Poi al settore Giovani, su proposta dell'assessore Genacaro, abbiamo una serie di contributi con un'unica di Libera per un importo di 69.000 euro, ve lo dico nel dettaglio e poi lo scriverà anche Pasqualotto. La Gesci, 2.000 euro, Ascolto Giovani, 15.000 euro, Cattolici Popolari, 2.000 euro, Cingei, 3.000 euro, Jugenddienstbotsen, 42.000 euro, Südtiroler Jugendring, 2.000 euro, City Roller, Fadfinderschaft, 3.000 euro. Nel settore Giovani, l'associazione La Strada, Der Wegge, per la realizzazione del progetto Remember Festival, abbiamo dato un contributo di 2.000 euro, sempre nel settore Giovani, una bella delibera da 395.000 euro cumulativa, dove c'è tutto un elenco piuttosto corposo, io vi leggo, l'Orizzonte 24.000, Teatro Cristallo 18.000, Arci Ragazzi 22.000, Arci Ragazzi Pippo 20.000, l'associazione Bunker 50.000, l'associazione Melograno 8.000, la strada Der Wegge 30.000, cooperativa sociale, officina Vispa 25.000, musica blu 40.000, l'associazione Pierino Valer 20.000, FAUTE 39.000, questi sono i beneficiari del contributo che vi ho detto. Sempre nel settore Giovani, l'associazione La Strada, Der Wegge, abbiamo dato un contributo di 8.000 euro per la realizzazione del progetto KULTUR, KULTUR, settore Giovani, abbiamo dato 5.000 euro deliberato, sempre l'associazione La Strada, per Art My Sound, per Art My, 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 speriamo che sia spostato, che venga realizzato. Contributo all'associazione Volontarius per la realizzazione del progetto ZEITROOM, con un totale di 2.500 euro, sempre nel settore Giovani, 10.000 euro nell'anno 2020, 5.000 nell'anno 2021, all'associazione Volontarius per la realizzazione del progetto Murart 2020. Poi passiamo ai promemoria, questa era una causa dove non ci, ah no, canone parcheggi, ah sì, voi sapete che con l'emergenza coronavirus abbiamo sospeso l'incassio, abbiamo liberalizzato le strisce blu, quindi la serva che gestisce ha avuto delle cadute verticali nell'incassio e quindi abbiamo deciso di abbonarli quello che era il canone fissato e di versarci quel poco che avevano potuto incassare. Poi una decisione che riguarda più una causa, però insomma abbiamo rinunciato di costituirci con azioni esercitorie perché non eravamo direttamente interessati. Poi abbiamo approvato un promemoria dell'assessore Frank, quindi non deliberato il promemoria per il concorso pubblico per esami per il conferimento di un posto di ingegnere settore tecnico con contratto a tempo indeterminato non a qualifica funzionale. E poi abbiamo rinviato una cosa col rendering che verrà probabilmente mostrato la prossima, approveremo mercoledì della prossima settimana, vista la data del 2 giugno che è martedì e la festa del lunedì, sul rendering della stazione del bus che fanno a Bolzano Sud. Abbiamo approvato le guine linee su proposta dell'assessore Andriolo per un percorso espositivo del monumento alla Vittorio per riaprire la galleria civica al museo della scuola. E così abbiamo fatto anche per la riapertura dell'artivo storico della piccola galleria d'arte che colleghia via Strider con i portici e della casa delle semi rurali. Poi su proposta dell'assessore Andriolo abbiamo esaminato la tematica della mensa di Piazza Verdi che viene chiusa perché quella viene spostata e attivata giù in via Comini, essendo là quindi non costringendo la gente a dei movimenti inutili avanti e indietro. Quindi abbiamo la mensa, quella che era di Piazza Verdi in via Comini. Questo è il quanto. Siamo pronte le domande. Allora, signor Sindaco, sono arrivate due domande che le giro subito. La collega Antonella Mattioli del quotidiano Alto Adige chiede se su Piazza Erbe la Giunta ha deciso di ridurre l'orario dei locali come ipotizzato dall'assessore Conder. Questa è la prima domanda, poi ce n'è un'altra, ma gliela leggo dopo. Prego. Allora, io ho parlato col signor Prefetto, ho chiesto la convocazione di un comitato dell'ordine di sicurezza pubblica, le varie proposte che avevamo già anticipato ma che erano in fase di discussione, di precisione, verranno discusse e eventualmente validate, spero mercoledì mattina quando ci sarà la convocazione, ci sarà la riunione del comitato per la sicurezza pubblica. L'altra domanda, la collega Chiara Currodossi del Corriere dell'Alto Adige chiede sempre a proposito di Piazza Erbe e Movida se anche a Bolzano potrebbero arrivare gli assistenti civici. Penso che è un'iniziativa del Governo a livello nazionale, io non so, bisogna provarli, bisogna vedere se ci li mandano e questo lo sentiremo poi perché sono azioni del Governo tramite il Prefetto. Noi avevamo attivato, con poco successo, visto il risultato di street walker, non so quanto dei volontari civici possono così essere ascoltati e quindi vedremo mercoledì mattina, sono in attesa dell'orario della riunione, vedremo cosa propone il Signor Prefetto a quest'ora perché questi sono volontari a livello cosiddetto nazionale e vediamo poi cosa avrà deciso mercoledì mattina. Certo, allora io inviterei anche i colleghi eventualmente a porre delle domande se c'è qualcuno che vuole intervenire. Allora, sempre la collega Matteoli qui chiede quando, un attimo che è scappata la domanda, dunque, quindi quando verrà proposta al Prefetto la chiusura anticipata? Allora, le ho appena risposto, lei vuole già la risposta all'idea che può essere una chiusura anticipata, può essere una chiusura della piazza, può essere lì, può essere là, io la palla di vetro non ce l'ho, le idee ce l'ho abbastanza chiare, però non le anticipo perché prima vanno discusse a livello di comitato, una delle possibili soluzioni nella chiusura anticipata dei locali di piazza delle erbe per evitare questi eccessi di assembramenti. Ok, allora quindi verrà proposto, non quando, ho letto male io, ma la risposta era molto chiara. Nel frattempo invece c'è un collega che mi ha inviato un'altra domanda, chiedono se ci sono novità per quanto riguarda i mercati settimanali, in particolare quello del sabato di piazza Vittoria. Allora, qui siccome le misure di distanza, il distanziamento sociale di sicurezza non è che sono un'invenzione di singoli comuni, ma sono azioni che derivano dalle ordinanze provinciali che necessitano, così come vedete in piazza delle erbe nella normalità, la catenella, così come sta avvenendo in tutti i mercati regionali, evidentemente la distanza presuppone un numero ridotto di stendisti. La Unione Commercio ha fatto delle proposte, io ho già sentito la fine scorsa settimana il Presidente del Consorzio Sazze, perché riguarda un comportamento comune di tutti i comuni dell'Alto Adige, mi ha promesso che appena l'avrebbe avuta e me l'avrebbe inviata e devo dire che non mi sono ancora pervenuta e finita la conferenza stampa andrò a dare un'occhiata all'email e poi dovrebbero essere trattate, non so se venerdì o chiedendo l'anticipazione per vedere se sia possibile una riduzione delle distanze in modo tale da aumentare il numero dei stendisti di coloro che sono operatori del mercato. Perfetto, allora per l'assessore Valfia, posto che domani, qui ricordo i colleghi, ci sarà anche la presentazione dei lavori dell'ultimo lotto per quanto riguarda la realizzazione delle corsie preferenziali per gli autobus, il progetto Metrobus, domani alle 11.30 in Piazza Adriano, siete ovviamente tutti invitati, l'assessore Valfia, un collega, chiede di fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda i cantieri, i cittadini, se sono ripartiti tutti quelli che sono aperti pre-Covid o se ci sono ancora situazioni di blocco o di stallo. Sì, siamo partiti in effetti con tutti i cantieri, addirittura qualche d'uno abbiamo già terminato come la rampa in via Marconi, in parte abbiamo recuperato addirittura tempo rispetto alla marcia che ci siamo dati prima, certo abbiamo perso 4 fino a 6 settimane nei singoli cantieri per la chiusura del Covid-19, però adesso stiamo riprendendo, addirittura crediamo di poter aumentare il lavoro, per dire, al cantiere più grande che abbiamo allo stadio Russo, spostando l'EFCE City Royal via da Bolzano, già che devono giocare senza pubblico, si potrebbe prevedere questo, per poter lavorare sulle due tribune contemporaneamente e lavorando anche già adesso sul campo nuovo, perché questo sarebbe un lavoro che in ogni caso dobbiamo fare quest'anno in estate e pertanto tutti i cantiere sono avviati, procediamo e finiamo adesso già prossimamente diversi grandi cantieri per poi poter affrontare altri cantieri importanti e importanti come quello in via Fago, dove da metà giugno andiamo a chiudere, come l'anno scorso, di nuovo una parte di via Fago. Bene, io invito ancora i colleghi, se volessero rivolgere delle domande, a farlo, diversamente se ci sono, non so, Sindaco, ci sono altre cose da comunicare rispetto alle decisioni pro memoria di Giunta di oggi? No, direi di no, era solo, hanno rovinato la giornata qualcuno ieri, mi fa lo stesso, era la prima dopo due mesi e mezzo, ma fa parte del lavoro di Sindaco. Va bene, Vice Sindaco vuole aggiungere qualcosa? No, aggiungo al momento niente, tanto domani ho una grande conferenza stampa e lì poi in due ore ho tutto il tempo a dire quello che ho sullo stomaco e sul cuore. La conferenza stampa, scusa Luis, bloccheremo via Druso, vero, per fare la conferenza stampa alle 11. Sì, ma io all'ultimo cambiavolo a posto così, come fanno nei film. E sì, da mani, esatto. Va bene, l'appuntamento è comunque alle 11.30 in Piazza Adriano davanti alle poste. Ok, vedo che non ci sono altre domande in arrivo, allora noi concludiamo qui questo nostro incontro, ringraziamo come sempre il Sindaco e il Vice Sindaco, i colleghi che ci hanno seguito e appuntamento alla prossima. Grazie a tutti. Arrivederci. Buon lavoro. Buon lavoro, buon lavoro.